Una storia che mi raccontava sempre mio prozio quando ero piccolino, avevo avuto 6 o 7 anni, era la storia di un prete che abitava anche in Maddalena sulle alture di Cuornier, in un cascinale con adiacente una chiesa. Questo prete sapeva fare le magie. Un'anedoto curioso è che questo ecclesiastico avesse una canna d'oro. Breaches of my dreams, raise up and let us swim in. Now and forever, I'm your queen. I'm your queen. Questa canna d'oro negli anni so che l'hanno cercata in molti, ho conosciuto io una persona che l'ha cercata in ogni dove, adiacente al cascinale, nei terreni circostanti, dentro la chiesa, senza però mai trovarla. Quindi chissà se questo bastone, questa canna d'oro sia ancora nascosto da qualche parte in questa cascina o seppellito, come dicevano, da qualche parte. Grazie